Cari amici della strada degli scrittori, eccoci di nuovo con il nostro consueto appuntamento, l'aperitivo CON. Oggi siamo in compagnia di Monica Brancato, che ad Agrigento conosciamo tutti per suo impegno in tante iniziative sociali, ma anche in un'iniziativa importantissima, che è quella di un gruppo di lettura che ormai si sta estendendo in tutta la provincia di Agrigento, il gruppo si chiama BUC, e insomma quale migliore occasione per farci consigliare oggi un libro proprio da Monica, che di libri ne legge tanti assieme ai suoi compagni di viaggio, questo gruppo Monica intanto. Allora, BUC è nato più di un anno fa ormai, un anno e mezzo quasi, per gioco, perché con un amico stavamo ognuno nelle rispettive case leggendo un libro, ci stavamo scambiando dei consigli sul libro che stavamo leggendo, allora ci siamo detti, ma perché questa passione non la facciamo diventare un motivo di unione, unione, diciamo, di comunità, di gruppo e quindi abbiamo lanciato quest'idea. Sinceramente dico, quando è partita io non mi sarei mai immaginata che avremmo superato l'anno, invece non solo ci siamo riusciti, ma devo dire che con i ragazzi di BUC si è creato veramente un gruppo, siamo diventati, lo dico sempre, una piccola famiglia, tant'è che abbiamo condiviso anche diverse uscite, una delle quali abbiamo fatto a Racalmuto con una guida d'eccezione. Mi ricordo, è stata una giornata straordinaria. Una giornata molto bella. Certo, pensandola oggi, guarda, diventa ancora più unica. Assolutamente sì, tra l'altro se pensi che abbiamo, dovevamo il 29 marzo fare la stessa cosa che avevamo fatto a Racalmuto ad Agrigento, quindi sui posti di Pirandello, non l'abbiamo potuto fare, ma con la scusa, diciamo, dell'isolamento forzato, noi amanti della lettura stiamo andando a riprendere un po' i libri che avevamo lasciato a metà in sospeso. Con il gruppo BUC noi stiamo facendo una cosa carinissima, che è quella di ogni due o tre giorni ci vediamo su Skype e commentiamo tre novelle, novelle per un anno, che scegliamo tutti insieme, quindi stiamo facendo novelle per un mese, le stiamo leggendo tutte piano piano. Mi auguro che non siano per un anno. No, speriamo di no. Ci stiamo divertendo con Pirandello che io sto riscoprendo, diciamo, devo dire che le novelle vale la pena di leggerle, sono molto, molto belle. Pirandello, assolutamente sì. Tra l'altro, appunto, questo viaggio che avete iniziato a fare nei luoghi dei nostri scrittori è quello che, diciamo, un po' promuove la strada degli scrittori, cioè quella di visitare, leggere i libri naturalmente e visitare i luoghi che hanno un pochino ispirato, insomma, questi grandi autori della letteratura italiana ed europea. Assolutamente. E quindi il viaggio che avete fatto era calmuto, quello che farete e che faremo. Abbiamo un po' sì, in programma Grigian che porta in pedote. Sono proprio in linea con quello che facciamo con la strada degli scrittori. Detto questo, oggi ai nostri amici che ci seguono, qual è il libro che ci consiglio? Ci sono tanti consigli di lettura in questi giorni, in questi momenti che vediamo su Facebook, sui giornali, in TV. Non è facile consigliare un libro, perché, insomma, devi riuscire a catturare la curiosità di chi ci segue. Allora, qual è il libro che Monica ci consiglia? Allora, sceglierne uno è complicato, perché quando uno ha lecci tanti, per motivi diversi, in tempi diversi, una si affeziona a una serie di libri. Però, in assoluto, quello che voglio consigliare è A volte ritorno, di John Neven, edito per Enaudi, è nella collana Stile Libero. È stato un incontro casuale quello con questo libro, perché mi ritrovavo, ero a Palermo alla Felpinelli, gironzolavo un po' tra gli scappali, volevo prendere tutt'altro, dico la verità, mi ero avvicinata più volte a Baricco, ma io e Baricco non ci siamo mai particolarmente amati e ogni volta che entro per comprarlo, per comprare un suo libro, ne trovavo sempre uno che mi colpiva di più. Ed è stato questo che è la cosa che è successa con Neven, perché mi sono trovata di fronte a questa copertina molto appariscente, diciamo, perché c'è un Gesù molto giovane disegnato sulla copertina. A volte ritorno, va da sé, che mi sono avvicinata perché dico, ma vediamo un po'. Ho scoperto John Neven, che questo autore scozzese, che prima scriveva di… era un critico musicale, che poi si è reinventato, diciamo, nella scrittura, scrive molto bene, è un po' particolare, non è per tutti, dico sempre non perché sia complicato, ma perché è molto sboccato, ed è molto sarcastico, dissacrante. La storia parla di Dio che si prende una vacanza di una settimana, che corrisponde a circa duemila anni sulla terra, lì circa, e quando torna si trova una pila di carte sulla scrivania in ufficio, con tutta una serie di cose bellissime che gli operosi uomini avevano fatto, ma anche l'olocausto, le guerre religiose, insomma, il terrorismo, le malattie, tutte queste cose di qua, per cui dice, ma questi uomini che strada hanno preso, chiama a raccolta tutti, chiama suo figlio, che suonava la chitarra con Jimmy Hendrix, quindi in paradiso, diciamo, si fanno una serie di incontri particolari e decide di rimandarlo sulla terra. Lo manda a New York, in mezzo agli ultimi, prostitute, tosticodipendenti, malattie di est, omosessuali, si toccano un sacco di argomenti sociali importanti con molta intelligenza, secondo me, ci dà uno spunto di riflessione su quello che significa essere delle brave persone, prima che dei buoni cristiani, e Gesù deve ovviamente evangelizzare nuovamente, e nel 2000 come lo fa? Grazie alla tv e a un talent show, perché era bravissimo a suonare la chitarra. C'è un personaggio che sembra molto, diciamo, mefistofelico e che lo tenta con il lusso, con le luci del varietà, diciamo, e lui riesce comunque a insegnarci di nuovo delle cose, mettendo, come dire, alla luce, sia gli aspetti positivi dell'essere comunità, una comunità, diciamo, legata dagli stessi valori, ma anche un po' gli aspetti ridicoli, diciamo, della religione, le divisioni. E la cosa che c'è scritto nella quarta di copertina, che è quella che a me mi ha poi convinto in una sola frase a comprare il libro, che dice, Dio aveva dato solo un comandamento, fate i bravi. E quindi, diciamo... Molto attuale, molto attuale questo libro. In questo periodo, diciamo, ci dovremmo ricordare tutti di fare i bravi. È un libro che ha un buon ritmo, è scritto bene, e io ho iniziato con questo e li ho comprati tutti, poi quelli di Niven, che sono stati scritti, che sono stati pubblicati dopo. Sono tutti editi con Enaudi e tutti per la collana Stile Libero. Sono molto belli tutti, ma questo, secondo me, è veramente un libro che vale la pena di leggere ed è trasversale, perché piace a chi è assolutamente ateo, a chi invece è molto cristiano. Io dico sempre che è cattolico. Mia mamma, quando mi sentiva leggere questo libro, mi sentiva ridere, perché è molto divertente, mi disse, ah, voglio leggerlo pure io. Mia mamma è di quelle che è molto credente e praticante. Dico, ma guarda, questo libro non è per te, perché è veramente crudo in alcuni aspetti. E mia mamma, un po' con aria di ispira, dice, ah sì, allora me lo leggo pure io, visto che non è... Per me le è piaciuto molto e anche lei a stavolta l'ha regalato, quindi dico, è proprio un libro super trasversale. Allora, Monica, è un libro in effetti che stimola molta curiosità. Ricordaci, titolo, autore e casa editrice. Allora, il titolo è a volte ritorno, l'autore è John Neven e la casa editrice è Einaudi. Sono 200 pagine all'incirca. Grazie, Monica, grazie per questo consiglio straordinario che appunto a passo quei tempi diremmo. Vabbè, allora ci risentiamo. Magari nelle prossime puntate ci consigli qualche altra cosa. Molto volentieri, anche perché ho qualche altra colpa in canna. Bene. Grazie mille.